Grazie a tutti i nostri panelist. Siamo andati un po' lunghi, quindi purtroppo non avremo modo di prendere altre domande. Ci ripromettiamo però di tornare, soprattutto di tornare anche su questo ruolo pubblico-privato, perché effettivamente è una delle interrogazioni che stavamo ponendoci. E chiudo rapidamente su un po' i concetti che sono già stati espressi. Ne scelgo solo alcuni per questioni di tempo, ma non certo di importanza. Al primo, la misurazione. Abbiamo esordito il calendario degli eventi a gennaio proprio parlando di misurazione, di quanto sia fondamentale misurare questo fenomeno e porsi degli obiettivi concreti e come dicevamo, con degli orizzonti temporali che davvero contribuiscono. a cambiare le cose. Poi il secondo, i percorsi di carriera. Percorsi di carriera trasversali, sempre meno specializzanti. Dobbiamo consentire soprattutto alle donne di potersi formare in una maniera assolutamente versatile e flessibile, in modo da evitare che un qualsiasi tipo di buco nel curriculum possa inficiare la loro permanenza nel mondo del lavoro. E ne chiudo con un ultimo. L'imprenditoria femminile. Ecco, abbiamo detto prima, una delle fragilità del nostro mondo del lavoro è proprio la scarsa partecipazione delle donne alla forza lavoro. Io credo che le aziende, parlando di sostenibilità e quindi parlando anche di sostenibilità della supply chain, possano fare molto in questo ambito, favorendo addirittura la nascita di nuove imprese femminili, applicando la logica di genere lungo tutta la loro filiera e la loro catena del valore. In un anno appunto fondamentale per l'Italia, un anno in cui abbiamo detto l'Italia guida al G20, riteniamo che sia necessario ripartire proprio dai dati per strutturare delle proposte efficaci e ci faceva piacere con questo evento ripercorrere, ripartire un po' dai dati immensi proposti dal World Economic Forum all'interno del report per fornire degli spunti di riflessione.